Oggi c'è il convegno al centro sociale sulla legalità, sulla mafia, e quest'acqua nera Secondo voi, il centro di Zapponita cos'è? E' legalità? Gli scarichi abusivi sono legalità? Ecco, davanti a voi ci sono sempre i scatti delle carote, il mare La gente sta attenta a quello che fai, non a quello che dici E questa è rivolta a lei, signor Sindaco, come è rivolta a qualsiasi persona sulla terra Non si può vivere da parenti Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.